Sì. Buongiorno. Buongiorno signori. Senta, io e mia moglie abbiamo fatto dieci anni di matrimonio. Complimenti. Grazie. Grazie. E avevamo pensato di fare un viaggio. Bene. Posso? Maldive. Viaggio alle Maldive. Maldive. Bella idea. Maldive. Allora, benissimo. Maldive. Ecco, e quando avete intenzione di partire? Quando vuoi partire? Luglio. Luglio? Va bene, allora, luglio per lei, agosto per me.